Parlando di nuove sfide nella gestione delle malattie infiamatorie e croniche intestinali non si può appunto trascindere dai farmaci, prescindere dai farmaci e anche di questo argomento se ne è parlato a Cagliari in occasione di un evento focalizzato proprio alla gestione di questi pazienti dall'età pediatrica a quella adulta e noi abbiamo fatto il punto della situazione sulle nuove terapie biologiche con il professor Alessandro Armuzzi. Allora professore parlando di terapia farmacologica cosa abbiamo a disposizione oggi e cosa arriverà nel prossimo futuro? Per il trattamento farmacologico dei pazienti con malattie di cronica e colite ulcerosa a parte la terapia convenzionale che si basa sulla mesalazina e corticosteroide, gli immunosopressori tradizionali e le terapie biologiche basate sugli antitnf alfa di cui disponiamo da circa 20 anni, nel panorama dell'armamentario terapeutico da qualche anno, 2-3 anni abbiamo a disposizione il blocco della F4 beta 7 integrina cioè il vedolizumab di cui abbiamo iniziato ad avere un'esperienza cospicua in Italia, avremo a breve quando sarà rimborsabile l'ustechinumab che blocca l'interleuchina 12-23 ma la cosa che è più interessante è che c'è una pipeline di farmaci all'orizzonte che ci permetterà probabilmente nel prossimo futuro di avere molte più armi a nostra disposizione per il trattamento di questi malati. Riassumendo brevemente il panorama in via di sviluppo possiamo distinguere appunto farmaci che vanno a inibire il traffico leucocitario di cui vedolizumab è quello che abbiamo a disposizione adesso ma ce ne sono altri in via di sviluppo come l'etrolizumab che blocca l'alfa e beta 7 caderina, abbiamo anche un'antimadcam che blocca appunto le madcam e abbiamo anche un orale che si può definire anche questo come inibitore del traffico leucocitario a monte, infatti è una small molecule che si chiama zanimod che intrappola e blocca temporaneamente i linfociti a livello proprio linfonodale impedendo appunto che questi vadano in circolo nelle zone infiammate. Poi abbiamo altri tipi di farmaci che bloccano la differenziazione dei linfociti T, come abbiamo detto l'ustechinumab che avremo a breve disposizione in Italia ma anche una serie di farmaci che bloccano direttamente l'interleuchina 23 come risanchizumab, il guselcomab, il mirichizumab e così via dicendo. L'altro aspetto in via di sviluppo sono i cosiddetti anti-JAC, sono altre small molecule di cui tofacitinib è il capostipite ed è in corso di approvazione a livello europeo e si spera che una volta forse approvata a livello europeo in Italia possa arrivare a disposizione il prima possibile e queste sono tutta una serie di molecole di cui come ho appena detto tofacitinib è il capostipite ma ce ne sono altre come upadacitinib o filgotinib che sono in corso di sviluppo che bloccano il segnale delle citochine dalla membrana a livello del nucleo, quindi bloccano tutte le vie di attivazione appunto delle cascate in cui le citochine stimolano quando c'è infiammazione. Infine un altro tipo di small molecule che è in corso di sviluppo, questo specifico per colito ulcerosa, che si ha già a disposizione nella psoriasi e la premilast che blocca la fosfo di esterasi 4, questo è un po' il panorama che probabilmente ci avremo a disposizione nei prossimi 4, 5, 6 anni per trattare i nostri pazienti con malattie di cronico di tulcerosa. Professore, al di là del meccanismo di azione, vari meccanismi innovativi, dal punto di vista della sicurezza cosa possiamo aspettarci da questi farmaci? Tutti i farmaci hanno un profilo di beneficio-rischio che una volta approvato a livello regolatorio internazionale e di conseguenza eventualmente anche a livello nazionale ci permettono poi di valutare qual è il paziente candidabile ad avere più beneficio e meno rischio per la rispettiva molecola. È chiaro che ogni farmaco ha dei rischi intrinseci e quindi sarà nostro compito selezionare il paziente giusto perché questo rischio possa essere ridotto al minimo.